In questo video vedremo come scaricare un file salvato all'interno di una cartella SFTP su una cartella di rete sul vostro PC oppure all'interno di uno SharePoint. Perché dico SharePoint? E perché dico SFTP? Perché dovrei avere dei file su una cartella SFTP? La sicurezza sta diventando sempre più stringente, quindi nelle grandi imprese hanno già iniziato, un po' ovunque, nelle medie non lo so, nelle piccole magari pensateci. Quindi scaricare i file dal vostro gestionale a una cartella di rete non è considerato sicuro, mettete i dati a rischio. Quindi che cosa succede? L'IT quando andrete a chiedere il prossimo scarico dal gestionale vi dirà no attenzione questa pratica qui non la facciamo più, se vuoi i dati te li metto su una folder SFTP. Ma qui casca il palco perché c'è un problema di fondo. Se voi state utilizzando Excel oppure anche Power BI, nativamente non può attualmente collegarsi a questi percorsi di sicurezza, quindi questi percorsi SFTP. Quindi come possiamo risolvere il nostro problema? Possiamo andare a collegarsi a questi spazi manualmente e scaricare il file manualmente. E poi aggiornare le nostre dashboard, però è tutta una procedura manuale che è veramente scomoda. Oppure utilizziamo la tecnica che vedremo oggi per scaricare automaticamente, per automatizzare questo processo di download del file. Attenzione che per rimanere in policy, se voi scaricate il file sul vostro computer locale oppure su una cartella di rete, comunque spostate il file da SFTP a uno spazio non sicuro. Quindi una buona idea potrebbe essere scaricare il file e posizionarlo all'interno ad esempio di uno spazio condiviso di SharePoint, dove si accede con HTTPS, che è anche quello uno spazio sicuro, dove Excel e Power BI si possono connettere senza nessun problema. Ovviamente, usiamo la testa, se l'IT può scaricare questo dato direttamente all'interno di uno spazio SharePoint, seguite quella strada, così non dovete utilizzare questo automatismo. Ma se per policy bisogna per forza di cosa utilizzare l'SFTP, utilizziamo questo automatismo che ci tornerà veramente molto utile. Allora, cosa facciamo? La prima cosa che dobbiamo fare è installare un tool che abbia l'API che ci permette poi di collegarsi a questo spazio SFTP. Una volta installato il tool, andremo a visionare un file in PowerShell che ho realizzato io e poi ve lo potete copiare, oppure se siete abbonati e magari se non siete abbonati pensate a stipulare un abbonamento, così accetterete tutti i servizi che offre il mio canale, più il download di questo file, ovviamente serve il tier più alto per poter scaricare i mini progetti, e attraverso questo file poi quando noi lo lanciamo, che poi lo connetteremo anche con Excel, quindi sarà un automatismo completo, scaricherà questo file nel posto in cui andremo ad indicare la folder di download, che può essere appunto uno SharePoint, cartellare di rete o il vostro PC locale. Questa è la vostra indiscrezione. Allora, partiamo con la prima procedura. Installiamo WinSCP, quindi ad esempio andiamo sul browser e andiamo a cercare WinSCP. WinSCP, questo è un tool per connettersi a spazi SFTP, vedete? WinSCP.net, andate sempre nei siti ufficiali a scaricare il software. Qui andiamo poi su Download e scarichiamo la versione che più ci interessa, ad esempio io ho Windows, quindi vado a scaricare quella di Windows. L'ho già scaricata, quindi vediamo un po', magari non è l'ultimissima versione, ma eccola qua. Allora, che cosa facciamo? Vediamo anche come installarlo, così vi guido dalla A alla Z se avete dei dubbi. Qui mi dici, installare per tutti gli utenti? Sì, installare per tutti gli utenti. Qua compare, scrumata Neymar, diciamo che ho detto semplicemente un sì. Prima pagina, facciamo un'accetta, installazione tipica, ci basta quella tradizionale. Avanti, come vogliamo poi vedere le finestre del tool, va benissimo il commander, andiamo e installiamo. Ecco che sta installando WinSCP e si sta installando sulla posizione standard. Togliamo questo flag e abbiamo WinSCP che poi comunque non lo utilizzeremo. Lo utilizzeremo solo, vedete qui vi dice, metti SFTP.dominio.com ad esempio. Dopo dovete mettere nel vostro nome utente la password e vi porterà allo spazio SFTP. Queste informazioni vi devono essere trasmesse dall'IT, quindi se vi salvano un file all'interno dello spazio SFTP, per potervi connettere vi serve il nome del server, il nome utente, la password e anche il numero di porta, che di solito comunque è la 22 standard, è difficile che la cambino. Se voi avete queste informazioni con WinSCP manualmente, le inserite qui, fate accedi e si apre poi sulla destra la folder specifica alla quale punta il dominio che vi hanno dato. Per cui dobbiamo appunto poi procedere a mano. Prendiamo il file, lo tiriamo giù, lo tiriamo fuori, eccetera. A noi interessa il software, perché questo software ha rispetto a Filezilla, che è un bellissimo tool che ho usato fino all'altro ieri, però WinSCP ha le API che possiamo chiamare con PowerShell, con Visual Basic e quant'altro noi vogliamo. Quindi attraverso questo tool che è installato possiamo poi connetterci via codice allo spazio SFTP e fare giusto quello che vogliamo. Quindi una volta installato, ve l'ho solo fatto vedere giusto per, lo chiudiamo perché non lo apriremo mai più, a meno che non dobbiamo accedere manualmente allo spazio per vedere quello che c'è o che non c'è. Qui c'è lo script PowerShell, però prima di vedere lo script PowerShell vediamo lo script in Excel. Io qua l'ho messo in Excel ma potrebbe essere in Anzeos, ad esempio questo che ho sviluppato e mi sono aiutato con l'intelligenza artificiale per sviluppare tutto il progettino, altrimenti ci avrei messo una vita. L'ho sviluppato in Anzeos dove ho uno scarico multiplo di file e quindi ho fatto tutto un progetto che parto da delle tabelle locali con tutti i parametri di configurazione e lui in modo intelligente scarica ogni ora dei file in automatico. Quindi quel progetto è molto più complesso. Io qua l'ho messo in Excel per semplicità e questa è la funzione di base. Quindi che cosa succede? Io qua vado a dichiarare delle variabili. Definisco il percorso SFTP, quindi qua dovete trovare la cartella dove è posizionato il file. Quando voi accedete allo spazio SFTP che vi dà il vostro IT, vi farà arrivare su una cartella. Ad esempio qui nel mio caso arrivo in questa cartella. Poi devo scendere in un'altra cartella e qui trovo questo file. Quindi qua metto il percorso, attenzione allo slash iniziale, metto il percorso e nome file del file che poi vorrò scaricare. Perché lo faccio qua? Potrei metterlo anche all'interno del PowerShell, però se voglio automatizzare tutto il processo, io ho la mia dashboard qui che aspetta dei dati, ok? Lancio la macro da Excel che poi lancerà il PowerShell con i parametri che passo dall'Excel. Quindi vediamo come passare i parametri da Excel a PowerShell. Qui ho il script path, quindi specifico il percorso completo dello script PowerShell. Quindi qua ci sarà il percorso di dove è salvato il PowerShell che dopo andremo a lanciare. Quindi percorso, nome file, punto ps1 che è l'estensione di PowerShell. Qui che cosa vado a fare? Semplicemente avvio PowerShell, ok? Bypasso le policy in modo che posso eseguere nel modo corretto e lancio semplicemente questo. Li passo lo script, quindi li dico, perfetto, apri PowerShell e lanza questo PowerShell qui, ok? Perché ho questa variabile qua. E poi quando ho lanciato questo PowerShell però li dico, ok, passo anche una variabile, questa è la tecnica per andare a passare le variabili, quindi passo questa variabile qua, ok? Questa qui verrà passata al PowerShell. Perfetto, fatta questa cosa cosa succede? Lui lancerà il PowerShell con questo comando qui, faccio Shell e creo un oggetto al PowerShell che va a lanciare tutto questo comando qua. Poi lui rimarrà in attesa finché il PowerShell non avrà terminato lo scarico. Così facendo, mettendo appunto questa righetta, lo script non continuerà ad andare avanti e magari va a pescare i dati aggiornati del file che ipoteticamente avete già scaricato. No, aspetta che lo scarichi e solo dopo andrà avanti il codice. Quindi questa righetta serve per questo motivo. E poi, niente, chiudo la Shell del comando. Quindi attraverso questa funzione facciamo proprio il download lanciando il PowerShell. Ok, capita questa cosa. Chiudiamo l'Excel, che adesso non ci serve più. E andiamo a vedere come è fatto il file di PowerShell. Quindi lo apriamo con un tasto destro Notepod. Ecco qui lo script. E qui praticamente che cosa abbiamo? Abbiamo il parametro che abbiamo preso dall'Excel. Quindi qui ci sarà il percorso, il nome file del CSV che vogliamo andare a scaricare. E qui l'unica modifica che dovete fare all'interno di questo script è semplicemente mettere il vostro dominio. Quindi il vostro sfdp host che vi dà l'it, l'username e la password. Quindi li cablate dentro qua. Ovviamente potreste cablarli all'interno anche del file Excel come il percorso di dove verrà scaricato il file. Allora, qui ho messo un percorso locale del mio PC. Però potreste connettere e sincronizzare una cartella di SharePoint all'interno del vostro PC così potreste scaricarla direttamente lì. Come sincronizzare cartelle di SharePoint cercate sul mio canale che ci sono dei video che spiegano come fare questo tipo di attività se volete rimanere su spazio comunque sicuro utilizzando SharePoint che è ampiamente supportato sia da Excel che da Power BI. E niente, qui c'è tutto lo script. Quindi va modificato solo i primi tre parametri qua manualmente. Va messo il percorso dove volete salvare il vostro file a meno che non vogliate appunto aggiungere delle variabili qui virgola e mettete altre variabili. Quindi va rimessa ad esempio questa parte qua e qua mettete il nome della successiva variabile. La cosa nell'Excel fate un'altra righetta mettete il nome della variabile lasciate tutti gli apici in fondo e siete a posto. Quindi che cosa succede? Qui passate questi parametri lui va ad avviare praticamente WinSCP passa tutta una serie di parametri quindi fa dei check per vedere se trova quello che deve trovare e poi con la parte che c'è qua sotto lui si connette e va ad eseguire un download. Se trova dei problemi rilascia poi dei log che potete andare a visionare all'interno di WinSCP. Questa parte qua mi è stata veramente molto utile quando ho sviluppato questo file perché c'erano cose che non funzionavano attraverso il logo ho capito cosa non funzionavano e poi con l'IA sono riuscito poi a ottimizzare questo script. Ripeto ancora per chi è abbonato col TR massimo che si può acquisire nel mio canale si può scaricare questo mini progetto altrimenti ve lo copiate lo potete comunque utilizzare. Ok, visto lo script che cosa facciamo? Facciamo semplicemente un test di avvio quindi magari andiamo a lanciare questa cosa qui andiamo su sviluppo andiamo su Visual Basic eccolo qua che cosa succede quando io poi andrò a lanciare questo script vediamo cosa succede faccio un F5 parte PowerShell lui si sta connettendo sta scaricando il file una volta che ha finito ecco che troviamo qua il file scaricato. Se questo video è stato il tuo gradimento lascia un bel pollizioni in su iscriviti al canale se non sei ancora iscritto torno sul punto abbonatevi al canale perché mi aiutate a sostenere tutto quello che sta facendo è veramente un forte incentivo per me è un forte aiuto per riuscire a continuare a creare video di questo tipo che mi costano veramente tanto tempo e tanta fatica anche per svilupparli e poi condividerli con tutti voi quindi un abbonamento per me è veramente un aiuto molto forte per portare avanti il canale oltre al fatto che ripeto potete accedere a tutti i servizi aggiuntivi che offre il mio canale in descrizione eventualmente altri sistemi per supportarmi vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo nel prossimo video a presto ciao ciao